Silenzio elettorale dalla mezzanotte di ieri in attesa dell'apertura delle urne. Domani dalle 7 alle 23 si potrà votare per le elezioni del Parlamento europeo. In altre parti d'Italia gli elettori saranno chiamati anche a due elezioni suppleative in altrettanti collegi unilominali del Trentino Alto Adige, alla scelta del Presidente del Consiglio della Regione Piemonte e ai sindaci e ai consigli di 3.800 comuni, tra i quali i 5 capologhi di regione. In Sicilia il voto è solo per le europee. In provincia di Ragusa gli elettori sono 256.691, di cui 123.625 maschi e 133.066 femmine, 305 le sezioni elettorali normali, 5 quelle ospedaliere. La scheda è di colore rosa. Il voto di lista si esprime tracciando con la matita copiativa che verrà consegnata al seggio un segno X sul contrassegno corrispondente alla lista per scelta, una sola. È possibile e non obbligatorio esprimere da una tre voti di preferenza per candidati compresi nella lista votata. Nel caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza. Le preferenze si esprimono scrivendo nella posizione delle righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome, cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome, il cognome e se occorre la data e il luogo di nascita. Ma nella circoscrizione Sicilia-Sardegna non ci sono casi di omonimia in nessuna delle 15 liste. Se nella sede della sezione elettorale sono presenti barriere architettoniche, gli elettori possono esercitare il diritto di voto in una qualunque altra sezione accessibile dal proprio comune di residenza, presentando unitamente alla testere elettorale un certificato medico rilasciato dall'azienda sanitaria e attestante all'impedimento. Il luogo del certificato può esibire la documentazione sanitaria attestante l'impossibilità o la grave riduzione della capacità di deambulazione, rilasciata in precedenza dal medico legale per altri scopi o la copia della patente di guida speciale. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dell'abitazione in cui dimorano, potranno votare nel proprio domicilio, se hanno presentato domanda entro il 6 maggio scorso. Gli elettori ricoverati e non dimissibili, luoghi di cura, ospedali, cliniche, case di riposo, centri di recupero per tossicodipendenti oppure detenuti in carcere, possono votare nel luogo in cui si trovano, purché ne abbiano fatta domanda. Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto e hanno bisogno dell'assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto, possono votare con l'aiuto di un accompagnatore di incambina. L'accompagnatore può essere un familiare elettore, oppure un altro elettore iscritto alle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano. Occorre però apposito certificato medico o domanda dal comune di residenza.